L'applauso naturalmente è tutto per De Andrè, chiaramente in questo concerto al vivo non era per noi, non era un applauso registrato, ma io farei tanti applausi a una prostituta del film, che non scherzavo, era una battuta naturalmente, abbiamo qui al mio fianco in questo momento che è arrivata un po' in ritardo, per questo era un giochetto insomma, però veramente nel film interpreta la prostituta, Sì, sono un'amica di Martina Stella, un'amica di Martina Stella nella vita, è una collega in tutti i sensi, sia come attrice che come prostituta nel film, bene, comunque è anche una collaboratrice, diciamo saltuaria direi, di Radio Roma, che tra l'altro adesso mi diceva di ci segui da tempo, è anche un'ascoltatrice tra l'altro, è tutto con Radio Roma, lei fa parte di Radio Roma, fa parte E questo era rivolto le domande a Giuseppe, che vedevo subito che l'ha detto riguardando Giuseppe Ma abbiamo augurato un buon 2 giugno a tutti i nostri ascoltatori Questo l'ho già detto prima, tu Antonella sei arrivata alla fine della trasmissione e mi dici pure quello che devo augurare E vi devo dire la verità, questa sera abbiamo un altro film, adesso solo per fare una piccola digressione, che uscirà nelle storie E lo so, non si può dire perché Rosario dice che poi è concorrenza quella, comunque il film è Punto Rosso Siamo qui per ballerina però Punto Rosso che dov'è nella sala, sulla Cassia viene presentato, vicino al Picchio Rosso Punto Rosso, Picchio Rosso, no? Sì, sì, tutto un'analogia Tutto rosso sulla Cassia, tutto quello che è rosso si fa sulla Cassia Senti, ritorniamo ancora, adesso scherzando perché con la Salvucci siamo amici da tanto tempo Con Antonella Salvucci, dall'altro non avevamo neanche presentata ancora Antonella Salvucci Che ricordiamo l'ultima volta che l'avete sentita, ascoltata appunto su queste frequenze, su 103.9 E' stato perché è stata la nostra inviata fuori dal Teatro Ariston Nella grande puntata, puntatona su Sanremo di 6 ore appunto qui in diretta su Radio Roma In occasione appunto del Festival di Sanremo E Antonella ha realizzato le interviste fuori dal Festival, fuori dal Teatro Ariston E adesso si trova invece qui nel Teatrino Ariston, qui a Radio Roma E naturalmente ha fatto, ha partecipato a questo film come una collega di Martina Stella Parlavo proprio nel film Antonella, tu come ti poni nei confronti di questo fenomeno? Beh questo è un fenomeno davvero insomma increscioso che sta crescendo poi Perché devo dire che ormai non si parla d'altro Quasi crescioso allora visto che sta crescendo E poi questo diciamo, cortometraggio serve proprio a questo A sensibilizzare il grande pubblico, portarlo al cinema Guarda che Rosario Enrico la prossima volta non ti fa più lavorare con lui Sai perché? Perché l'hai chiamato cortometraggio Questo non è un cortometraggio ma è un film breve Lo stiamo dicendo, mi ha corretto già dieci volte dall'inizio della puntata Adesso tu lo chiami cortometraggio, Rosario Enrico già ti ha guardato male Allora parliamo, ecco un film breve ma si può anche dire cortometraggio Vabbè poi questo discorso lo prenderemo Lo fate voi in privato, basta se fai cambiare idea a lui va bene No perché esatto, ha qualcosa di diverso rispetto ai cortometraggi che di solito vengono presentati Qui c'è una grande qualità, è un film a tutti gli effetti Anche se dura 16 minuti quindi dobbiamo farla questa precisazione È una sceneggiatura che mi ha colpito da subito Quindi colpisce sia il pubblico ma anche noi attori che ne abbiamo partecipato Ti rimane qualcosa addosso Attenzione se lo chiami il film cortometraggio un'altra volta ti colpisce davvero la sceneggiatura Ma parlo quella pertacea Non riescono ad essere seri questi ragazzi Volevo, parlando di sceneggiatura, volevo salutare anche l'autore del soggetto Che è Stefano Famiglia, ciao Stefano E ringraziarlo di aver collaborato con maestria a questa storia Tra cui è un autore che lavora spesso nel sociale Tra i veri film che ha scritto Oltre ballerina anche ti voglio bene un genio che affrontava i problemi Di un down, ecco, di un giovane disabile Bene, noi ci siamo normalmente in ritardo con la pubblicità E stiamo, ci sta incompendo Dobbiamo passare la linea alla legge immediatamente per la pubblicità Che poi ritorniamo subito in studio Io penso che la maggior parte La maggior parte addirittura neanche guardano Oltre quello Oltre la ragazza, quello che c'è alle spalle In quel momento il loro intento è ben altro Forse sono anche poco informati a questo punto di vista, probabilmente Infatti io tra l'altro vorrei far parlare a Antonella Sono 9 milioni i clienti dei transessuali in Italia Tu pensavi, 9 milioni sono, tu sapevi che erano gli spasimanti È una cifra imbarazzante 9 milioni sono gli spasimanti ma sono 9 milioni addirittura anche i clienti transessuali Ma quello che fa paura poi in questo film emerge benissimo È che vengono uccisi i sogni delle ragazze In questo caso una ragazza piena di belle speranze Giovane, carina Che aveva il sogno di fare la ballerina Invece viene dirottata su totalmente un'altra strada Poi alla fine, vabbè, in questo caso vediamo l'uccisione della ragazza Ma quando vediamo l'uccisione di un sogno Quello è molto grave Perché una persona non si riprende più Se non ci sono sogni non c'è vita E ti rimane un grande vuoto dentro E questo infatti secondo me poi il tema che emerge da questo film Io devo dire alla prima quando eravamo l'8 marzo Quindi l'occasione della festa della donna Ha colpito tutti Ma non solo le donne Quanto più gli uomini Perché si sentivano vicini a questo problema E non sapevano come arginarlo naturalmente Senti Un'altra cosa che volevo dire E invece il discorso dei rapporti non protetti Che ho ascoltato prima Spesso c'è questa richiesta Che sembra quasi partorita da una mente malata Una mente insensibile Ma anche soprattutto incosciente Soprattutto si parla di persone sposate Che hanno una famiglia Hanno dei figli Una moglie che li aspetta a casa Forse proprio perché non si sa più Come provare emozioni sempre più grandi Anche trasgressive Anche che ti portano Poi verso la morte Perché poi è quello Il finale Come abbiamo visto Questo caso emblematico Di quest'uomo Con la tubercolosi La forma gravissima Che ha voluto girare il mondo Facendolo apposta Quindi non solo Facendo del male a se stesso Soprattutto agli altri Quindi è quello che poi Dai anche agli altri Un tuo problema E non va bene Tra l'altro si parla molto di HIV Di AIDS Ma ci sono anche Ci sono L'epatite C per esempio Che è molto più diffusa Sono tantissime le malattie Sessualmente trasmettibili Però Questa è trasmettibile Tra l'altro molto più facilmente L'epatite C Senza calcolare Poi le varie malattie venere Che sono sicuramente Più lievi Ecco Più facile da ebellare Non portano magari alla morte Però sicuramente Ci sono anche malattie un po' più gravi Anche a livello venereo Tu non pensi Che sia anche una scarsa informazione Perché si parla molto di HIV Però per il resto non si parla Sono tante veramente le persone Che noi vediamo morire Spesso E spesso non si pensa Che magari siano state Quelle malattie Siano state trasmesse sessualmente Noi vediamo soltanto l'HIV Per effettivamente Quanti tu mori Da carcinomi al fegato Magari che derivano da un'epatite C Che magari Che è stata trasmessa sessualmente Che magari Vediamo morire Quasi nessuno pensa Ah è morto di tumore No È morto perché aveva contratto L'epatite C Magari con una Probabilmente con una ragazza Magari di 17 anni Di 16 anni Che magari dice Ne avvenne 18 Magari a cui è chiesto Un rapporto non protetto E magari La propria moglie Ha anche un'epatite C Perché ha avuto Un rapporto non protetto Con quella ragazza Magari a quella ragazza stessa L'era stato attaccato In qualche modo Trasmesso Il virus Da un altro Incosciente Che aveva chiesto Rapporti non protetti E magari È una catena Un circolo vizioso Un circolo vizioso Perciò non è morto Di tumore al fegato Ma è morto Da un'epatite C Che aveva contratto Appunto sulla strada Sì Questo Abbiamo fatto un esempio Un po' classico Però insomma Sicuramente C'è nonostante Di queste situazioni La scarsa informazione Gioca un ruolo Predominante Ed è per questo Che come ci diceva L'assessore Magari questo film Andrà direttamente Nelle scuole superiori Proprio per Divulgare la notizia Proprio per Aiutare A capire meglio E giustamente Sensibilizzare Su questo argomento Che non è mai Troppo farlo Più volte Devo dire Bene A questo punto Io mi fermerei Un attimo Perché Dato che Andiamo un po' Oltre Qualche minuto Oggi Io C'è il GR Che incombe Perché tu hai parlato Di informazione Io non posso Assolutamente Esivermi Dal Far ascoltare Appunto In maniera Molto molto puntuale Appunto Il GR Delle ore 18 Che esattamente Scatta fra 4 secondi La linea Basta la regia Per ascoltarci In GR E poi Per le conclusioni Torniamo in studio